Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Jonathan, io sono Ismaele Vector, Ismaele e tu? E tu? E insieme siamo noi con voi con te! E oggi per lo speciale dei 10-14 iscritti faremo l'intervista tripla, avete capito bene? Oh no, oh no, mi sono dimenticato di scriverla in un foglio, lo dovevo scrivere così? Vabbè, così mi lo ricordavo, no? Già, comunque non si vede. Così? Sì, così sì. Vabbè, iniziamo subito l'intervista, senza che dietro di noi ci sono i colori, qualcuno metterà non mi piace. Nome? Jonathan. Ismaele. Gioele. Cognome? Vannicola. 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 Tutti Vannicola. E? Età? 10 anni. 8. 6. Nome da youtuber? Jonas Vannicola. Vastator. Vastator. E anche il cognome tra Vannicola. Gioele Vannicola. Eh? Quanto siete bravi ad andare sull'overboard da 1 a 100? Cioè, da 1, eh vabbè, da 1 a 100. Però io sono bravo, cioè, noi siamo bravi con l'overboard. Però, vabbè, a volte ci cadiamo. Una volta mi sono fatto male qua, proprio qua nel piede sinistro. C'era un dolore immenso. Per fortuna era codice verde. Cioè, non so se, cioè, non so perché era codice verde. Forse vuol dire che mi sono fatto male solo, oppure solo che c'era il dolore. Siamo, sì. Siamo bravi. Io, io 100. Jonathan, 99. Perché io ho imparato prima. E Gioele non ci va. Volevo dire? Gioele, quanto sei bravo ad andare sulla bicicletta da 1 a 10? Vabbè, diciamo che è bravo. Sai fare le sgommate sulla bici? Sì. Voi due, Jonathan e Ismaele, sapete fare le impennate, le spennate e le sgommate sulla bici? Sì, le impennate, cioè, l'impennata poco. La spennata, quando freno, comunque per fare scena, alzo i pedali. E quindi può creare una sgomma, una spennata. Per quella dietro. Per chi non capisce chi è, è una impennata che si fa dietro. Comunque le sgommate, sì. Le sgommate, sì. E anche le impennate. Vabbè. Le aspetta. Anche le... Allora, le sgommate, sì. Le impennate, sì. E anche le... Spennate. Spennate. Qual è la cosa che vi piace di più? I video su YouTube. Ah, ovviamente! I video. Io vedo i video. Ah. No, i... Qual è la cosa che ti piace di più? Che vedere i video? Sì. Qual è la cosa che vi fa più paura immensa al mondo? Non so. Ma... Non vorrei dirlo, ma è il buio. Anche se... E io dico, non scompare un mostro? Un fantasma? Porca miseria. Sono nel castello di Azzurrina. Il fantasma più famoso d'Italia di Montebello. I ranni. Ehi, i ranni. Aspetta. No, aspetta. I mostri. Ma i mostri non esistono. Vabbè, qui a Giulianova? Sì. Sapete fare la ruota? Sì. No, cioè... Ora non riesco a mostrarvelo perché sto... perché sto in casa. Però la so fare. Cioè, a volte... sono stanco. Sì. Io non la so fare. Gioele, sai fare la capriola all'indietro? Sì. A poco. Vi piace disegnare? A me sì. Ah, a quella avanti? A quella avanti? Sì. Vi piace disegnare e colorare? Eh sì. Però prima ho fatto una serie che non so se mi seguivate in quel tempo. Cioè, se mi seguivate alcuni di voi che non erano i miei amici di scuola. Vabbè. Però, però, noi quando... Prima di eliminare tutti i video, perché c'era quel hacker nascosto che faceva i video privati. Quindi vuol dire che il nostro telefono è stato spiato sotto controllo. Però vuol dire che ho fatto una serie che si chiama Disegnare e Colorare.it. Che bei ricordi. È stata bella quella serie. Anche i video che facevamo prima. Facevamo quella del generale, con un'epidemia. E vabbè. Comunque, mi piaceva, sì. E dopo è comparsa un'altra serie che si chiama La sfida di disegni. Quella sì che era la più bella. E adesso è spuntato Il pianeta dei dinosauri, che ha cambiato nome molte volte. Quanto si devi mettere a parlare, Fuggio? No, lo so. Ci fatti quattro ore. Ma a te ti piace Disegnare? Sì. Allora, sì. Mi piace Colorare. Vi piacciono le macchine Hot Wheels? E quante volte ci siete andati a vedere lo spettacolo a Mirabilandia, che ha cambiato molto nome? Tante volte. E poi? Ci piacciono. Ci piacciono. Nel 2015 si chiamava Grosso Guajastan City. Dal 1996, pensa un po', fino al 2014 si chiamava Scuola di Polizia. E adesso si chiama Hot Wheels City la nuova sfida. Perché prima si chiamava Sfida Hot Wheels City. Sapete fare le acrobazie? Sì. No. Sì. A voi vi piace il parco giochi? Sì. Sì. Che cosa vorreste fare per lo speciale, per il prossimo speciale dei venti iscritti? Beh... Io non lo so, lo deve decidere Jonathan. Beh, io, alcuni di voi lo sanno, anche voi lo sapete, che per lo speciale dei venti iscritti vi informo che saremo al parco Franchi, lì, alle ore... alle ore 4... Aspetta, che ore sono adesso? Le 4 e 36. Saremo alle ore 4 e 30, come... Come è l'orario del compleanno? Boh. Alle ore 4 e 30. E là ci incontreremo tutti per lo speciale. Se voi non vivete a Giulianova, tranquilli, alcuni di voi ci saranno. E poi, siccome ci sono i miei compagni di scuola, che sono come... sono anche loro dei fan, loro a volte vengono sempre al parco, quindi sembra che sto facendo lo speciale. Sì. Vabbè, Giole, niente idee. Giole, niente idee. Giole, siete d'accordo per quello che ha detto Jonathan? Sì. No. Sì. Ok. Che cosa... che cosa vi piace di più su YouTube? Bah... Tutto i video. Eh sì, anche i miei. Comunque... A me... C'è... c'è un... ci sta uno YouTuber che si chiama Wayne Gamers File... No, Wayne Gamers File è il canale YouTube. Lui si chiama Lion, il suo nome da gamer. Però, in realtà, nella vita reale si chiama Ettore Canu. Ha già fatto tre libri. E ora mi sa che farà un fumetto sulla Failcraft 2 e mi sa che lo farà anche sulla serie Epidemie. Quello che abbiamo fatto noi prima di eliminare i video. Saluta i fan che stanno a casa. Ciao ragazzi, ciao! Ciao! Mandagli... Mandagli un bacio. Mamma. Saluta i tuoi genitori. Ciao! In televisione. Ciao mamma! Ciao mamma! Fate una pubblicità sui... sugli YouTuber, ok? Ok. Ok. Allora. Non lo so, passa avanti. Ok, lascio... Ok, io sono Jonas... Jonathan Vanicola, Jonas Vanis. E lascio la linea alla Failcraft. Cioè, lascio la linea al Pianeta dei Dinosauri con Parapauro e Rexing. Sì. Il... Il... L'episodio C. L'episodio 6, sì. Che festeggia il compleanno Parapauro. Eh, che belli che sono. Che sono... Che stanno recitando, ok? Dopo la pubblicità che termina a 30 secondi. Ciao! E' più bello Parapauro... E' più bello Parapauro di... 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 Jonathan. Ok. Solo... Che vuoi? E voi sì? Manda una faccia buffa. Eeeeee! Manda una faccia... Scusa. Manda una faccia triste. Eeeeee! Che prende? Manda una faccia di paura. Siete tirchi? Che... No. Non lo so. E voi sapete che vuol dire tirchio? Io sì. Che sei scemo. No. Che hai soldi. Che ci tiene i soldi e ce l'ha di più. Aspetta. Come tirchio? Sì, così si dice. No, ricco. Eh, ma anche tirchio. No, tirchio no. Anche tirchio. Gioele, secondo te i tuoi genitori sono tirchi? Cioè ricchi di soldi che li donano di più oppure di no? No. Ok. Adesso fate il vostro ultimo saluto. Ok, ciao, ciao. Addio. Aspetta. Saluta. Ecco l'ultimo. Ciao. 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 Ecco l'ultima domanda. Se rispondete... Non lo so. Qual è il gioco che... Il videogioco che vi fa più paura? Granny. Ecco una domanda extra. Prima voleva rispondere Ismaele. Aspetta, che aspetta. Qual è il tuo... Videogioco più pauroso? Ovviamente. Sono tutti... Momo. Granny. e anche Grandpa. Piggy. Ok. Salutate. È finita l'intervista. Grazie a tutti per esserci seguito. Oddio. Ciao. Ciao. Aspetta. Nel frattempo è meglio che finisce l'intervista. Da Jonathan è tutto. Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Fines. I hands. Raga. Raga, secondo voi com'è andata l'intervista? Bene o male? Cioè, Ismaele è già scappato per la rabbia. Ok, vabbè. Meglio che apro la porta. Però è stata una bellissima intervista. Spero che ve la godiate tutti. Cioè, questo è un bene per noi. Per tutti noi. Vorremmo arrivare tipo, non lo so, a 100 iscritti. O mille. Lo so, è troppo. Però vorrei arrivare a questo traguardo. Perché un bambino che si chiama Francesco Luciani ne ha raggiunti 151. Cioè, non so se è proprio 151 iscritti. Non lo so. Mi sa, ora ne ha raggiunti un po' di più. Perché sa fare gli effetti speciali. E non so come fa. Eh, ne 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 ne. No, non so come fa. Ok, questo deve... Aspetta. Oh mio Dio. Comunque. Comunque. Spero che ve la godiate tutti. E dopo ci sarà lo special di 20 iscritti. Non faremo più interviste. Cioè, non so se le faremo ancora. Però dipende dalle domande che ci esistono. Vabbè. Nel frattempo è meglio che finisca qui il video. È meglio che lo chiuda. E da me. Jonas Vanis. Se non avete capito il mio vero nome nell'intervista è Jonathan. Joel Vanis. Che in realtà lui è Joel. E Vasta Torvanis. Che prima era Ismael. E il suo nome vero è Ismael. Come Joel. E io. Jonathan. Vabbè. Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze. Finis. Vi renders. Grazie.